Un saluto a tutti i lettori di Flip Magazine, infatti sono proprio qua per ricordare che da pochissimi giorni Flip Magazine ha compiuto tre anni e credo che sia un buon compleanno, un primo traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme, ricordo Flip Magazine è il giornale online interessante che guarda il mondo, che guarda l'Italia senza dubbio, ma ha una sezione che si chiama Worldwide che è dedicata ai vari paesi del mondo con corrispondenti, addirittura un nostro lettore, un nostro amico, un nostro collega, un grande progettista di comunicazione di New Yorkese Don Bates afferma che il nostro giornale dice Flip is hip, Flip is cool, che è detto in un linguaggio del nostro paese, potremmo dire che Flip è qualcosa di strepitoso, alla moda, di fico, oserei dire. E quindi voglio partire proprio da queste parole di Don Bates per dire che il nostro giornale ci piace, ci dà delle soddisfazioni. Abbiamo fatto in questi tre anni dei passi avanti, siamo partiti piccolissimi, con pochi lettori, poi l'abbiamo allargato, adesso negli ultimi mesi abbiamo fatto un'azione che è importante per allargare ancora di più lettori, ci siamo aperti ai social network, quindi siamo presenti su Twitter, su Facebook, dove aumentano i numeri, per il momento sono ancora piccoli, ma stanno aumentando gli iscritti, eccetera. E poi ancora più di recente sulla home page del giornale c'è la possibilità di inserire la propria e-mail nella sezione feed e ricevere in esclusiva tutte le novità, tramite la vostra newsletter, tutte le novità di vari articoli che escono ogni volta. E quindi è un modo quasi come essere un po' abbonati al nostro giornale e seguirci da vicino. importante è inserire il mi piace sulla pagina di Facebook, interagire con noi su Twitter, ogni tanto noi facciamo giornalismo anche tramite Twitter e tramite Facebook, dando un po' le nostre impressioni come se facessimo dei piccoli editoriali di poche righe come si fa oggi su questi nuovi media. Ma andiamo avanti, ci sono due novità, una diciamo che su una sono un po' più reticente, sull'altra invece cercherò di dire qualche cosa di più. Molto importante, d'accordo con il nostro editore, che come noto è la Camera di Romercio Southeast, con sede in Florida, Miami, abbiamo deciso di affidare ad un studio specializzato in mondo del web, grandi mondi del web, sono tante le deramazioni di questo mondo, per un survey per capire come aumentare i nostri lettori, come raggiungere i lettori nei vari, anche nei vari paesi, perché noi abbiamo lettori negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, ovviamente lo so quello di una comunità della Italia. E da questo survey miglioreremo la nostra presenza presso i nostri lettori e soprattutto potremo interagire ed essere sempre più presenti, anche diciamo anche proprio con una serie di articoli che i lettori ci chiedono, riceviamo un buon numero di mail, ci chiedono di trattare alcuni argomenti piuttosto che altri. E poi l'altra, su questo appunto voglio essere un po' più reticente, non voglio, è una sorpresa, succederà nei prossimi mesi, sta per nascere FliTV, quindi una web TV dove noi andremo a seguire più da vicino tutto quello che succede nel nostro paese, ma anche in altre parti del mondo e soprattutto utilizzeremo uno strumento nel quale io credo molto, che è quello dell'intervista, che dal punto di vista invece del giornale finora abbiamo utilizzato un oco perché abbiamo preferito osservare questa, diciamo che il sottotitolo di FliTV è una finestra sul mondo, abbiamo voluto guardare da questa finestra cosa ci accadeva in questo momento. Non dimenticate che io ho una lunga esperienza nel settore della carta stampata e ancora adesso sono molto legato alla carta stampata e seguo con grande piacere i quotidiani e anche i periodici che escono dal nostro paese e nel resto del mondo. Questa mia prima esperienza nel mondo del mondo del web però mi sta molto stimolando e devo dire mi piace ogni giorno aggiungere qualcosa di più, cercare di capire sempre più com'è il lettore che usufruisce nel web e come soprattutto si deve parlare, scrivere con questo lettore e come sempre con la base, la comunicazione che è fondamentale. Quindi FliTV Magazine è anche strumento di comunicazione per raccontare, per approfondire, per far capire, soprattutto in questo momento dove come sapete nel nostro paese c'è un grande caos, direi che non voglio forzare i toni ma in questo momento è come se fosse una grande cloaca dove non si riesce a capire gli odori o le puzze che direzione stanno prendendo. Quindi noi vogliamo esserci, vogliamo essere presenti grazie anche ai contributi dei nostri giovani, perché per la maggior parte sono ventieni o poco più, che ci mandano i loro articoli, che collaborano con noi e che noi le invitiamo anche a avvicinare al mondo del giornalismo, al mondo dello scrivere, perché lo scrivere è importante per chi fa comunicazione, ma non solo, è importante saper scrivere, saper si esprimere, saper raccontare. A questo punto non mi resta che darvi appuntamento alle novità, via via, che diventeranno realtà. A farvi un saluto, a dirvi, leggerci, leggerci numerosi, nelle nostre varie sezioni, che così chiudo ricordando l'attualità, Worldwide che ho già citato, Cosa vuole in pentola, la terza pagina dedicata alla puntua e ovviamente i miei editoriali che sono, buona quinta sezione.